Sai cosa ci vuole perché il tuo pacco arrivi in tempo? Una serie di lavori ben fatti e persone fantastiche che li svolgono. Ci sono persone che fanno sì che il tuo ordine sia consegnato rapidamente. Persone che si occupano della tecnologia. Persone che tengono d'occhio i numeri. Persone che si assicurano che tu riceva il prodotto giusto. Persone che verificano che tutti siano sicuri. Persone esperte di robot. Persone che gestiscono i nostri centri. Persone che prelevano i tuoi prodotti e persone che li impacchettano. Nei centri di distribuzione Amazon la consegna rapida è resa possibile da oltre 60 ruoli diversi. Amazon. Ottimo lavoro.